rispetto al consueto gli altri sono praticamente immobili prontissimi Flora e San Martino sono lontani adesso ed è valida la caduta la caduta di San Domenico ed è la Flora al comando la Flora al comando seguita da San Martino Flora, San Martino e Legnarello e il cavallo scorso di San Domenico lontanissimo Flora, San Martino e Legnarello la Flora adesso si sta allargando siamo siamo nel corso del secondo giro Flora, San Martino e Legnarello adesso c'è un attacco di San Martino ma non desiste vedremo se nel terzo e quarto giro cosa succede sicuramente in questa fase si stanno studiando Flora, San Martino e Legnarello tranquilli tranquilli con la Flora San Martino e Legnarello che perde una lunghezza arriviamo al momento decisivo stiamo arrivando al momento decisivo mentre vengono portati i soccorsi ad Andrea Mari che è caduto alla mossa attenzione siamo a un giro e mezzo dal termine con il cavallo scorso che potrebbe creare qualche problema siamo all'ultimo giro attenzione con l'attacco adesso di San Martino alla Flora con il cavallo scorso che può creare qualche problema attenzione alla Flora che sta conducendo siamo nell'ultimo giro la Flora la Flora non è possibile non è possibile è raggiungibile la Flora è cappotto è cappotto la Flora la Flora ha vinto il palio la Flora Silvano Mulas riporta il crociode al Cacidode non è possibile non è possibile il secondo anno consecutivo la contrana della Flora immaginare Taillet è è è è è è